Per me la campagna è completamente ininfluente, è esattamente la necessità che ho di spaziare lo sguardo un po' fino all'orizzonte perché passo il tempo a disegnare o a fare progetti, a leggere, per cui sono sempre di fronte a un computer o a un libro o a un foglio da disegno o a una tela, che è un orizzonte vasto psicologicamente, però ho bisogno di un ricambio fisico nel senso che ho bisogno di guardare lontano e i miei occhi hanno bisogno di guardare lontano e di guardare il cielo e le nuvole, eccetera. Quindi la campagna in questo senso è fondamentale, ma forse se abitassi in una città, in un terza, all'ultimo piano di un grattacielo molto alto, sarebbe la stessa cosa. La realtà imperversa in maniera militare sulla vita di un artista, nel senso che un artista è militarizzato rispetto alla realtà, per cui si trova a dover in qualche modo rispondere a degli ordini che sono quelli della presenza continua su tutte le cose. È come se le esperienze personali entrano dentro il lavoro in maniera indissolubile e non c'è niente che viene scelto per il lavoro o per la vita in maniera divisa. Io mi trovo, essendo una persona che del proprio empirismo ne fa un'esperienza fondamentale, io ho un approccio diretto alle cose e ho bisogno di maneggiarle, toccarle ed avere un'esperienza diretta su ciò che mi interessa. È come se ci fosse un momento preciso in cui l'occhio, la mano e la mente diventano un tutt'uno circolare, il cervello diventa lo strumento operativo della mano. Tento ogni volta di riuscire a mettere in un'opera, in un lavoro o in un ciclo di cose che faccio qualcosa di nuovo e di interessante, ma soprattutto per me, alla fine forse non penso veramente a un pubblico, è difficile che abbia questo pensiero come pensiero fisso. Mi capita spesso di pensare a me, soprattutto a cosa può essere utile per riuscire a portare avanti la ricerca. Non ho impostato il lavoro in maniera scientifica, nel senso che non c'è un percorso che mi sono obbligato a percorrere, ma ci sono tanti percorsi che vanno paralleli e spesso i percorsi rimangono paralleli e non si incontrano. Ci sono dei cicli di lavori che sono autonomi, che riprendo dopo anni che sono stati lasciati e ci sono percorsi di lavori che diventano un'altra cosa o si intrecciano con altri e diventano una terza cosa fondendosi insieme.